Ciao e benvenuto su Psynel, il podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Gennaro Romagnoli e ti do il benvenuto alla 152esima puntata di questo podcast. Oggi parliamo di sforzo e consistenza e quando sento parlare di sforzo mi viene sempre un po' in mente Balle Spaziali, un film stupido degli anni 80 e mi scappa un po' sempre una risata. In realtà muovendoci verso la fine di quest'anno, se mi stai ascoltando nel giorno di pubblicazione di questa puntata siamo nel 26 dicembre del 2016 quindi è appena passato Natale e ci stiamo muovendo verso il 2017, ebbene in questa puntata ti parlerò di un concetto fondamentale di cui abbiamo visto diversi aspetti durante il 2016, appunto dell'importanza, della consistenza. Bene, iniziamo! Oh molto bene, allora come andiamo? Come hai trascorso Natale? In realtà come forse saprai questa puntata la sto registrando un po' prima del Natale e ci stiamo muovendo verso il 2017. Durante il 2016 abbiamo visto moltissime cose qui su Psynel, ma in modo particolare ce n'è una che è in accordo un po' con tutto il mondo internet che ci circonda. In questi mesi tantissimi appassionati di web, appassionati di crescita personale, hanno avuto tra le orecchie e, diciamo così, sulla punta della lingua una parola molto particolare, la parola consistenza, la capacità di fare uno sforzo consistente. Quindi oggi parliamo un po' di motivazione, un po' di crescita personale, parliamo di tutte queste cose insieme. Innanzitutto mi devo scusare perché ho la voce molto molto giù, per questo parlerò anche in questo modo, con la voce un po' impostata perché così faccio molto meno sforzo e diciamo tu non ti accorgi che ho la voce giù, però meglio esporsi, no? Come abbiamo anche detto nella puntata precedente dedicata ai punti di forza o chi fa davvero il duro. Non voglio fare il duro e ti dico direttamente che ho la voce molto molto bassa. Come sempre voglio ringraziare tutte le persone che si sono prese la briga di venire su iTunes a lasciarmi la loro review a 5 stelle e ringrazio anche tutte le persone che si sono iscritte alla mia fan page di Facebook. Allora ragazzi, il 2016 nell'era di internet ha recuperato una parola o meglio una parolaccia che a pochi piace, la consistenza. Sì perché se domani desideri ad esempio aprire un sito, un canale di YouTube o qualsiasi altro progetto che non sia necessariamente online, il segreto che ci sta dietro è proprio la consistenza. Qualcosa di molto familiare ai nostri vecchi e molto meno alla mia generazione, per non parlare delle generazioni nuove cresciute a suon di click. In un attimo hai tutto ciò che ti serve in pochi click, quindi senza sforzo. D'accordo Genna, ma perché mi parli di internet? Io voglio sentire solo cose che hanno a che fare con la psicologia, con la crescita personale. Lo so bene caro 1.82, ma la verità è che quando si scopre una cosa che dà risultati in un certo campo, ecco che può diventare subito utile in altri campi. Oltre al fatto che internet è fatto di comunicazione e quindi ha molto, molto a che fare con la psicologia, più di quanto si possa pensare. Quindi da un po' di tempo a questa parte tantissimi uomini di business, e non solo, stanno dicendo che il vero segreto per avere successo nel mondo degli affari, in tutte quelle situazioni dove c'è in palio qualcosa di importante, di complesso, quello che serve è la consistenza, essere persistente in ciò che stai facendo. Ovviamente questo potrebbe spaventare molto i vecchi appassionati di crescita personale che sanno che se fai le stesse azioni ricevi gli stessi risultati, ma questo dipende solo quando fai azioni testarde o stupide che ovviamente non ti danno risultati. Ma ti faccio un esempio, se apri un negozio o se apri un sito internet, prima di avere dei risultati devi agire, devi metterti in ballo, devi iniziare a fare quei passi e avere la pazienza di attendere quei risultati. Cosa che stiamo perdendo, no? Voglio andare in palestra e in due settimane voglio già avere un fisico alla Schwarzenegger, vado a fare Kung Fu e in un anno voglio già conoscere tutte le tecniche. Insomma, è una deriva dei nostri tempi. Durante quest'anno, il 2016, abbiamo parlato tante volte di impegno e di costanza e in questo podcast di fine anno vorrei ribadirti questo concetto fondamentale in una chiave un po' diversa. Forse mi hai già sentito dire questa storia. Tempo fa, durante un'intervista ad Italo Calvino, gli hanno chiesto, caro Italo, che cosa consiglieresti ai giovani? E lui risponde, diffidate delle cose facili. Una frase piuttosto inquietante per chi magari cerca una strategia per migliorarsi, magari una strategia semplice che lo aiuti a risolvere qualche problema complesso. Non c'è nessun male nel voler trovare una strategia facile, nel voler cercare delle informazioni più attendibili di quelle che si possiedono, ma fa male invece andare alla ricerca di quelle scorciatoie per ottenere quei risultati. Ora, ho sbagliato prima di dirti facile. È meglio dire semplice, perché in realtà facile significa una cosa e semplice significa un'altra cosa. Oggi siamo nella società delle scorciatoie e siamo in una delle società più assistite che siano mai esistite. Presto o tardi tutti i lavori manuali che oggi conosci verranno sostituiti dalle macchine e dai computer e tutto diventerà davvero più semplice, con ovviamente il dark side che puoi immaginare. Ma come dice una metafora che ho sentito recentemente, se vuoi davvero affilare un coltello, devi passarlo contro una pietra ruvida. Devi fare un certo sforzo e se anche tu vuoi farlo devi affilarti, devi fare un certo sforzo. Questi concetti sono comprensibilissimi se presi in altri campi della vita, come nello sport, come nel dimagrimento oppure nel lavoro. Tutti sappiamo che per ottenere questi risultati dobbiamo affidarci ad uno sforzo continuativo. Questo quindi significa fare i duri, come abbiamo detto nella scorsa puntata? Ovviamente no. Significa invece diventare realmente resiliente o realmente assertivo o con una parola che li riassuma entrambe, realmente cazzuto o cazzuta. E purtroppo devo dirtelo, non nasciamo con questa abilità, dobbiamo svilupparla nell'arco della nostra vita e vedere la nostra vita come una palestra durante la quale non smettiamo mai di imparare ad esercitarci, perché tutta la vita è un'esercitazione. Questo da un lato può spaventarti, ma dall'altro dà sale, dà sostanza alle nostre vite. E no, tranquillo, non devi diventare una specie di Rambo che non ha paura di nessuno, ne abbiamo già detto nelle scorse puntate, ma significa che se vuoi migliorare in un certo campo della tua vita, devi sapere che è necessario un certo impegno, un certo sforzo. Siamo ancora nella solita storia della differenza tra processo e risultato, dove amiamo i risultati ed odiamo i processi che ci potrebbero condurre a quei risultati. Nota bene ho detto ci potrebbero perché non è detto, però se una persona non si sforza, ecco diciamo che neanche inizia questo viaggio. Come ogni altro tipo di capacità, di abilità, anche le abilità psicologiche di cui ci occupiamo qui su Psynel necessitano di pratica e non solo di conoscenza. È chiaro che se vuoi scalare una grande montagna, devi anche conoscere il percorso, sapere quali potrebbero essere gli eventuali pericoli, sapere che cosa devi portarti dietro, conoscere la struttura del territorio e della materia su cui stai andando a scalare, quindi di che cosa è fatta la montagna. Ergo, una buona conoscenza teorica può fare tantissimo, però se non hai mai fatto più di un'ora di cammino, se non hai mai scalato neanche una piccola vetta, di certo ti servirà allenamento principalmente. Quindi puoi saperne quanto ne vuoi sul territorio, sull'attrezzatura, sulle teorie migliori dell'andatura del cammino, su come muoverti in un territorio montano, però se non hai fatto i muscoli necessari, se non hai costruito quelle abilità per andare avanti e se non hai mai avuto esperienza, diventa davvero, davvero difficile. Un piccolo esempio personale deriva dal fatto che i primi tempi che facevo il mio mestiere di terapeuta, che vedevo anche dieci persone in una sola giornata. Ovviamente sto parlando non dei primi anni, ma diciamo così dopo due o tre anni, tre, quattro, cinque anni di lavoro. Una quantità di persone è davvero molto alta, ma dovevo farlo un po' per pagare le bollette e un perché grazie a Psynel avevo tantissimi clienti. Nel tempo e con la pratica ho capito che dieci erano un po' troppi, però quando mi capita di averne dieci ho l'esperienza di sapere di potercela fare, perché l'ho già fatto nel passato, quindi attualmente cerco di non vedere mai dieci persone tutte in una sola giornata, ma se per caso dovesse capitare ho l'esperienza che mi dice Genna puoi farcela. Questo significa forse che sarei in grado di aiutare dieci persone contemporaneamente oppure che potrei vedere dieci persone tutti i giorni? Assolutamente no. Questa sicurezza derivante dall'esperienza viene chiamata da noi psicologi auto-efficacia e sarebbe la sorella minore della famosa autostima, o meglio la sorellina più specifica. Tutta questa menata che ti sto raccontando è per dirti e per invogliarti a mettere in pratica i consigli che ascolti ogni settimana su Psynel o che magari leggi su qualche libro. Ovviamente sforzarti non significa andare giù a testa bassa senza consapevolezza. Abbiamo straparlato durante il podcast numero 151 dedicato a chi fa il duro eccetera che invece è necessaria la consapevolezza, ma significa invece assumerti la responsabilità delle tue azioni ed iniziare con consapevolezza a migliorarti in quel determinato ambito, se così hai deciso. Perché dobbiamo affidarci a questo sforzo e perché non lo sto chiamando semplicemente motivazione, come probabilmente anche tu avrai intuito, no? Dice ma come mai non si parla di motivazione? La realtà è che la motivazione, che è, fra virgolette, qualcosa di molto molto interessante di cui abbiamo parlato tante tante volte, è una spinta inconsistente. Te lo ripeto, la motivazione, così come la intendiamo nella crescita personale, il fatto di invogliarti, di spingerti in una certa direzione, quel tipo di motivazione che potrebbe darti un bel corso di formazione dove magari alla fine si corre un po' sui carboni ardenti, oppure si cerca di convincersi tutti insieme che ce la possiamo fare. Ecco, questo tipo di motivazione, per quanto utile, in realtà è solo una piccola spinta. Tutti sappiamo che se dovessimo andare avanti con quel tipo di motivazione, dopo un po' decadrebbe. Pertanto quella motivazione deve essere ribadita ogni giorno e, diciamo così, potremmo chiamare questo tipo di motivazione consistenza. Un mix tra la motivazione iniziale e l'abitudine a quella certa azione che ha iniziato a compiere e questa abitudine si radica dentro di noi dopo molto tempo. Alcune persone dicono 21 giorni, non è vero. Altre dicono 66, come nello studio che citiamo spesso su Psyne, probabilmente 66 è una cifra un po' più realistica, ma in realtà ciò che serve è tanto tanto impegno e sforzo. Essere disposto a fare quel piccolo sforzo per ottenere ciò che desideri ottenere. Ok, Jenna, ho capito, non mi devo motivare, devo solo andare di consistenza. Non è proprio così, caro 1.82. In realtà la motivazione, quella spinta iniziale ci deve essere. Devi essere motivato a fare quel piccolo passo, ma non puoi fidarti solo, affidarti solo alla motivazione. Deve essere un atto, un impegno quotidiano. Devi fare in modo che questo impegno quotidiano, via via nel tempo, si trasformi in una tua abitudine. E tra poco vedremo nell'esercizio come fare. Quindi, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, individua qualcosa che desideri migliorare in te stesso. Fallo nel modo più onesto possibile, ancora meglio, se si tratta di qualcosa di molto piccolo, che vuoi migliorare, ma che non hai ancora mai messo in discussione. Secondo, chiediti perché e come non hai ancora migliorato questa tua abilità. Stai attento, perché non voglio che ti abbatti da solo con queste motivazioni, ma al contrario vorrai che tu riuscissi a trovare le tue scuse, i tuoi alibi, per non impegnarti in quel certo ambito. Limitati a scriverle e a prenderne consapevolezza. Ecco perché prima, nel punto 1, ti ho chiesto di essere molto specifico. Per cui nel caso tu ti trovassi nel mare della confusione, ritorna a scegliere qualcosa che vuoi migliorare, ma molto piccolo e molto specifico. Terzo, ora diamo spazio alla tua creatività. Facciamo un po' di brainstorming. Inizia scrivendo quali potrebbero essere le azioni che potresti fare nel 2017 per diventare più forte in quella determinata area della tua vita. Scrivi senza ragionarci, su fai un bel elenco di tutte le cose che potresti fare per migliorare quella certa abilità o quel determinato campo della tua vita. Quarto, segna il tuo impegno o calendarizzalo, no? Come si dice oggi questa parolaccia. Indovina cosa devi fare? Esatto, prendi dall'elenco precedente le tre cose più semplici che hai scritto. Come? Non è scritte più di tre. Allora torna indietro e vai di nuovo col brainstorming. Brainstorming vuol dire che devi scrivere tutto quello che ti viene in mente a ruota libera. Ok, se invece l'hai fatto, vai sull'elenco, prendi le tre più semplici che hai scritto, più semplici, e mettile in calendario, partendo dal primo passo, da quella più facile, andando verso la terza, quella più difficile. Inizia con questo primo passo importante, poi più avanti potrai decidere se proseguire o meno. Quinto, dai priorità all'azione. Se nell'elenco precedente dal punto 3 hai scritto tante cose intellettuali, come ad esempio fare un progetto, scrivere un business plan, eccetera eccetera, cerca invece di selezionare tre elementi che hanno a che fare con delle azioni, azioni fisiche che puoi fare. È chiaro che se sei un architetto e devi fare un progetto, se sei un formatore e devi fare un progetto, questo non vale, perché il progetto stesso è parte dell'azione. È ovvio che i progetti fanno parte dell'azione, però quello che intendo è rivolgerti maggiormente a delle prime cose che hanno a che fare con delle azioni fisiche che puoi mettere in campo e che quindi puoi vedere e misurare. Insomma dai maggiore spazio alle azioni. Sesto, impegnati ad impegnarti. Se hai ascoltato il podcast sull'impegno sai che il modo migliore per allenare il nostro impegno, questa metabilità che tutti quanti possediamo, è quello di sviluppare la nostra consapevolezza. La tua capacità di essere aperto nel momento presente e come probabilmente saprai non c'è esercizio migliore per farlo della meditazione. Lo so che ti sembra una cosa assurda, ma c'entra anche questo. Troverai tutti gli approfondimenti nel post e nel quaderno degli esercizi. Settimo, predisponi il tuo ambiente. Il vero segreto per essere consistente in ciò che si fa non sta nel motivarti di tanto in tanto, come ti dicevo prima, perché la motivazione è una spinta irregolare. Ti serve qualcosa di più massiccio per poter avere la costanza adatta nel portare avanti i tuoi progetti. Per questo è molto più utile insistere fino a quando quella cosa non è diventata una abitudine e quindi non necessita più della tua motivazione. A quanto pare servono circa, come ti dicevo prima, quei 66 giorni. Insomma, serve tanta costanza. Se ti ricordi bene, c'è qualcuno che tempo fa ha detto che Ericsson, che non Milton Ericsson, ma un altro Ericsson, non l'allenatore, è quello delle 10.000 ore. Se vuoi diventare davvero un maestro in una certa cosa, devi fare 10.000 ore di pratica libera. Per cui evita di preoccuparti se per caso hai iniziato a fare un certo mestiere, una certa attività, un certo sport e non ti senti ancora adatto e magari lo stai facendo da qualche mese. Le parole chiave della crescita personale del 2016 e probabilmente anche del 2017 saranno queste. Consistenza ed impegno. Due parole che non piacciono tantissimo, ma che in realtà fanno tutta la differenza, perché chi è riuscito ad essere consistente durante il 2016, nel proprio lavoro, nelle proprie relazioni, nella propria attività di tutti i giorni, scommetto che ha raccolto dei risultati. Viceversa, chi non è stato consistente, guarda caso, questi risultati non li ha raccolti. Bene ragazzi, prima di salutarvi e lasciarvi alle vostre vacanze se mi state ascoltando nei giorni di pubblicazione di questa puntata, vi ringrazio vi ricordo che mancano ancora pochi giorni alla chiusura del mio metodo scientifico per raggiungere i tuoi obiettivi. Si tratta del primo percorso che riassume in sé tutte le tecniche e le metodologie per raggiungere i nostri obiettivi in modo scientifico. Un corso video che ha già aiutato centinaia di persone a raggiungere i propri obiettivi. All'interno del podcast, all'interno del post e in tutti i luoghi, se mi stai ascoltando nel giorno di pubblicazione della puntata, troverai il link per saperne di più. Oh bene caro psinellino, siamo giunti al termine di questa 152esima puntata un po' natalizia. A quanto mi pare la voce ha retto abbastanza. Aspetto un tuo feedback, fammi sapere come è stata questa puntata. Come sempre ti invito a venire su iTunes a mettermi la tua review a 5 stelle, iscriviti ai miei canali social, iscriviti alla community di Psinell per ricevere il quaderno degli esercizi. Anche per oggi è tutto, ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Gennaro Romagnoli di Psinell.com. Grazie a tutti.